Sì, sei sempre stato il resto da lei, fin dal principio. Non ti sei isolato assolutamente, sei sempre stato il resto. Nessuna usina, Vittorio. Non si tratta né di una qualità né di merito. Io non ho le qualità né di merito, eppure sono sempre stato isolato, è la cosa più importante della sua vita. Certe cose le decide qualcuno dentro il nostro stato. Dispone a una parte, io più solitari, ed adatto al pezzo, in tecnici. E qui sono le pezze del mentorio che io non ho imparato. Quale non è complicata, ma di fatto anche io vorrei riuscire a liberarmi da questo isolamento, del lavoro a scopro, non da prospettive di carriera e pure di guadagno, semplicemente il desiderio di lavorare insieme agli altri. Ma non ce ne riesco mica tanto. Solo da quando sono tornato, vedo che qui avevo visto tutto in modo completamente diverso. Anche noi diventavamo innamorata di te. Carro, i morti hanno innamorato di te. Tutte. 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 Solo adesso è chiaro. Forse è solo io, ma lei in gemma giocava più da piccola, si sentiva in dovere di fare come me. Io ero veramente pazza di te. Hai innamorato di me sul serio? Sul serio, Victor? E lo sono stata per lungo tempo. Ti ha aspettato molti anni per la guerra. Casi. 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 Casi, sei bellissima. È il mio abito anunziale. Casi, sei dove? Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Non voglio vederti mai in più. Se buona course. Cosa è successo? объясni? Grazie a tutti